Sappiamo, abbiamo letto, sappiamo tutti e abbiamo comunque visto il pilot e magari anche qualcosa in più del grande successo di questa serie televisiva, forse inaspettato, forse avevate consapevolezza di quello che stavate facendo per il modo in cui riesce a raccontare il mondo palestinese e il mondo israeliano senza offendere nessuno anzi voi temevate moltissimo le reazioni, soprattutto da parte israeliana, invece avete ottenuto un grandissimo entusiasmo ecco se ci raccontate intanto com'è nata l'idea di raccontare questa storia e come siete riusciti a trovare questo equilibrio difficilissimo è vero, è stato davvero un successo in sua scopo, perché la serie è dealing con un soggetto che è molto volatile e explosivo quindi all'interno di tutti hanno qualcosa di dire su suoi sui sui suoi 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 suoi, quindi abbiamo la percezione di questo che è stato abitato dal centro e dal centro e dal centro, in effetti abbiamo abitato come se sono un sacco di siti e il Hamas e il Hamas, era un piacere un'astonazione reception in terms of how this series was initiated, I think Leo would be the best person to answer that since he came up with the idea Hi, do you hear me? So, I used to be in the Special Forces in the Army and I did this kind of operation when I was young and I think I had this dream all my life to talk about it, to show both sides the Palestinians and the Israelis and the price that the families and the friends are paying for their actions and I met my co-creator Avi in Ramallah it's an Arab village, not village, city and while we were I think five years ago and I asked him if he had a dream and he told me that yes, he wants to write something about what we did in the army and I said that we shared the same dream and actually we started to write about it and it was for us kind of a healing process to work and talk about subjects that we didn't talk about for twenty years and we didn't know that it would be such an amazing success and we thought all the time I told him to Asaf in the screening room that editing room he told him oh look at this it's a beautiful scene and I told him all the time yeah but it's just me and my mom who will see this series but it was really a huge success and for us it's amazing thank you